Come ha avuto un congresso con dei contenuti interessantissimi? E abbiamo finalmente anche potuto ascoltare dei numeri che lasciano sperare che questa discesa, questa crisi finalmente abbia toccato il fondo. E che possiamo sperare in una leggera, leggera purtroppo, però comunque in una piana e lenta ripresa. Questo consentirà alle aziende, se fanno le scelte giuste, di rifarsi un po' per quello che riguarda la loro redditività. Avranno finalmente nuovamente disponibilità di investimento e dovranno fare le scelte giuste su cosa e dove andare a investire i propri soldi. Spero tanto che anche le banche tornino ad avere un po' di fiducia nel settore per erogare il credito del quale le nostre aziende hanno tanto bisogno. Maiko presenterà in questo periodo una serie di prodotti innovativi. Siamo sempre a fianco del nostro cliente con formazione, assistendolo nell'incremento della sua competenza. Perché oggi giorno con quello che abbiamo sentito in questo congresso, quello che ci aspetta, ricordo Industria 4.0, ricordo l'internet delle cose. Qui il settore deve evolvere, deve crescere e soprattutto deve aprirsi anche a questi prodotti, a questa tecnologia connessa. E qui noi ci impegniamo e abbiamo l'ambizione di poter stare a fianco dei nostri clienti. Noi siamo partner di forum già il secondo anno e con orgoglio perché noi crediamo in questo tipo di manifestazione. Crediamo fortemente che il settore ha bisogno di avere un punto di incontro almeno una volta all'anno dove ci possiamo scambiare. Ma soprattutto il settore ha un estremo bisogno di essere confrontato con quello che avviene, con quello che sarà il futuro perché gli imprenditori del settore possano fare le loro scelte strategiche. E di cui sono estremamente grato all'ADB Information, cioè alla rivista Nuova Finestra per l'iniziativa che prendono. Con piacere siamo al vostro fianco. Grazie.